Com'è? Ci stanno i coccodrini? C'è una persona? Ci stanno i ragazzi della sicurezza ai quali io farei un grande applauso Fanno un lavoro veramente impressionante Ma io mi posso presa? Adesso, momento Non facciamo più niente Guardiamo il cielo Vediamo, chi vede la prima stella cadente va a casa No No Momento un attimo di serenità Per ringraziarvi per questo altro step meraviglioso che mi avete concesso che avete concesso alla mia corta carriera diciamo dal 2009 diciamo, sono parte comunque sulle scene e devo dire che quest'anno ho avuto tantissimi regali ma uno dei regali più belli è stato collaborare con uno dei miei miti e con uno dei cantautori italiani secondo me più bravi che abbiamo che è Ivano Fossati se no è stato per me veramente un onore essere con lui in studio ed aver cofirmato questo pezzo che faremo adesso grazie grazie grazie